ciao chiamata ala maria ci sono calcolizzati 5 rum e pera ma buoni e ah buono eh, 5 ce ne siamo fatti eh, ah no, uno di quei, allora stai Marco, uno solo perché è pesante, di questo uno perché è pesante, quanti gradi c'è Andrea, giro un po', quanti gradi c'è? no, vediamo quanti gradi c'è? no, si si, 40 gradi è quello, questo è l'importazione, poi Andrea che ci siamo fatti? eh mi sa che ci siamo fatti pure questo tanto però, aspetta, questo ci siamo fatti, non so se è il Matuserem, questo è di classe eh, aspetta, aspetta, questo è il Matuserem con gradi 3, ah, 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 oh no, oh no, per esempio ci ne siamo fatti 4 di questi qua, 4, però siccome non avevamo la pera, abbiamo preso il succo alla pesca, non il succo, il tero a pesca, il tero a pesca, che è ancora meglio eh, il tero a benedetto, il tero a benedetto in latina, poi, non felici, non felici di tutto ciò, abbiamo aggiunto ad ogni rum e pesca, un'altra, 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 un di volume, bene, però, però, però non è finita qui, l'ultimo bicchiere è stato questo qui che non so che cazzo sia, però 45,8 gradi e adesso si fa la volta, adesso si fa la volta Sori addono, addono, come l'affanello gavina, allora andiamo a considerarla, questa sera, stasera, stasera ci rifacciamo la sposa, io ci rifacciamo la sposa, o no, o no, o no, e si sta rubando le scuolelle e su andiamo con Andrea che stasera Gabriele rimette l'asino stasera Gabriele rimette l'asino stasera Gabriele si fa la posa oh no, oh no fire, fire, fire oh, sta facendo così no, 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 becci, ma ne ha il fondo rosso? ma ci sta tutto il fondo rosso no, no, dai cazzo, becci, ma geniato è sacco, dai ciao